Mi raccontavano e mi dicevano prima del lavoro, chi investe, le aziende che scelgono di assumere al Sud hanno la decontribuzione totale come il primo anno del Jobs Act ed è una importantissima scelta che abbiamo fatto per il 2017. Chi lo fa a Firenze? No. Chi lo fa a Milano? No. Chi lo fa a Verona? No. Anche perché in quelle aree siamo già tornati al livello 2008. Ma chi vuole investire su Caltanissetta o altri comuni del Sud e della Sicilia ha la possibilità di avere questa decontribuzione. Ed era una cosa che volevo dirvi e volevo tenere apposta per il nostro incontro di Caltanissetta.